Buongiorno a tutti, rivolgo con piacere un saluto al Presidente di Conprofessioni, Enrico Van Nicola, e a tutti coloro che intervengono quest'oggi alla presentazione del rapporto sulle libere professioni. Un settore, quello delle libere professioni, che rappresenta un tesoro di competenze e qualità, che opera al servizio delle imprese e dei cittadini. Una risorsa preziosa per il nostro territorio da valorizzare e sostenere. Dal vostro rapporto emerge, come quello delle libere professioni, sia un settore in continua crescita, soprattutto in una regione come la Lombardia, che vanta un tessuto unico e innovativo in termini di capitale umano. L'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica hanno messo alla prova imprese e professionisti. Questi ultimi necessitano certamente di un'attenzione maggiore, che come regione Lombardia farebbe in modo di non far mancare. Un altro ambito importante di intervento per favorire la crescita di questo settore è quello della formazione. I giovani sono la chiave di questa ripresa. Investire in una formazione di qualità, sia a livello universitario, sia a livello di formazione professionale, significa investire nel futuro e nel successo del nostro territorio. Su questo tema posso assicurare il mio impegno affinché una parte importante delle risorse che ci arriveranno dall'Europa siano impiegate in iniziative finalizzate allo sviluppo di un capitale umano formato e di qualità. Concludo rinnovando i miei complimenti agli organizzatori e augurando a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie.